Certo, tu hai fatto molto bene a partire. Ma sì, nonostante i tuoi successi non sei mai diventato americano. Anzi, incipi. Non ti farebbe piacere vedere quanto il povero oggi è questo il mio triste paese. Ma chi è questo Adolf Hitler che sta diventando sempre più potente in Germania? Quell'uomo è come una scossa eletta. E mi piace molto quello che lei ha disegnato. Abbiamo dovuto iscriverci di gran fretta al Partito Nazional Socialista. I nostri giornali concordano sul fatto che si tratta di un terribile poverum. La rinascita della nostra nuova Germania sotto la guida del nostro amabile Führer. Per il momento dobbiamo smettere di iscriverci. Questa censura. Il chirurgo che stirpa un cancro dà forse prova di questo sentimentalismo dolciastro. I roghi delle biblioteche. La Germania ha rialzato la testa di fronte a tutte le nazioni del mondo e seguirà il suo glorioso Führer. La busta mi è stata restituita intatta con un timbro che dice destinatario sconosciuto. Hei Hitler! La busta mi è stata restituita intatta con un timbro che dice destinatario sconosciuto. Grazie! Grazie!